La fase alla quale andiamo subito al tazzo per vedere come il Catania potrà imbrigliare la squadra di Delio Rossi. Sì, vediamo come il Catania può attaccare la Fiorentina che cambia modulo dal 3-5-2 e passa al 4-3-3. Diciamo però che la Fiorentina perde un giocatore fondamentale, il 70% della squadra che è Stefano Jovetic, 12 gol, il capocannoniere che sarà fermo e sarà assente. Quindi grave perdita per lei, Viola, di Delio Rossi. Ma vediamo, difesa 4 per la Fiorentina con Cassani, Gamberini, Natalia e Pasquale. Ecco dove cercherà di fare male il Catania col signor Pitu Barrientos con questi suoi soliti movimenti verso il centro e soprattutto cercherà anche di dettare profondità a Bergessio. Bergessio cercherà di essere molto mobile cercando di aggredire sempre lo spazio a sinistra, a destra e per vie centrali per non dare punti di riferimento a Natalia e Gamberini che sono due difensori centrali molto statici che spesso soffrono gli attaccanti di movimento. Attenzione al Papu Gomez nell'uno contro uno con Cassani verso la profondità e verso il centro per cercare di scoccare anche il destro. Molto importante il pressing sempre alto di Hitzko nei confronti di Montolivo o gli inserimenti senza palla di Semior. Altrettanto importante sarà il gioco di Cicciolodi che potrebbe avere anche una pressione di Cargiat tra possesso e non possesso ma Cicciolodi sarà molto molto importante per sfruttare un'altra soluzione d'attacco ti devo dire che soffre la Fiorentina e anche tanto che sono due. Uno è la palla lunga a scavalcare la linea difensiva verso Bergessio o addirittura le sventagliate da sinistra verso destra per cercare di non dare punti di riferimento alla retroguardia della Fiorentina. Attenzione anche a questo corridoio che si verrà a formare spesso se Cargiat dovesse andare in pressione sull'Odi che è questo qui dove Marchese potrebbe sfruttare anche la perpendicolare sfruttando anche i tagli verso il centro del Papu Gomez. Attenzione perché la Fiorentina invece dal canto suo potrebbe avere due uomini di cui io non mi fido perché noi siamo abili a Catania a far suscitare i morti. I morti sono due e sono Amaury peggior attaccante di gennaio del mercato europeo come rendimento e un altro signore, questo qua, Juan Manuel Vargas che è il re degli assist a Firenze con 5 assist. Sappiamo la sua caratteristica principale che è quella di sventagliare verso il centro e sappiamo quanto Amaury è bravo nel gioco aereo. Qui devono essere bravi le grottaglie e spolli a cercare di lenire ma anche Marco Motta. Deve fare un lavoro molto fisico, quasi di spalla con spalla. Deve cercare di mordere sempre le caviglie di Vargas, importante dovrà essere anche nei raddoppi Marianito-Itsco. Attenzione a non farsi bucare centralmente con Carcià che sfrutta molto il centro così come le punte di Delio Rossi. Quando hanno una punta di movimento, Amaury per esempio in questo caso, i due esterni d'attacco del 4-3-3 di Delio Rossi hanno un movimento sempre che vanno a cercare che è questo qui e in questo caso lo potrebbe trovare Cerci, cioè verso il centro per sfondare e dare profondità alla prima punta. Come può cambiare la partita? Te lo dico subito con questo signore qui, il signor Jama, Catania che potrebbe creare densità tra le linee con Gomez e Barrientos con un 3-4-3 lasciando per esempio Seymour e Lodi a protezione della difesa a tre con l'innesso di Bellucci. In questo caso Isco si sposterebbe a destra per offendere. Di contro Delio Rossi potrebbe anche cambiare passando alla difesa a 5 se Montella dovesse fare questa soluzione offensiva.